E fare cose che gli altri non farebbero mai Prego maestro Se volete un applauso spontaneo però non lo potete fare E fare cose che gli altri non farei 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 sedere in a sé Eщa la mia E passerà fino a più lestà Ah Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.